Il mio viso sul suo petto. Di mezza età, con più ricordi che speranze, mi ammalai e venne il medico fiscale. Restai a letto e lui tornò. Fu un abbaglio tra solitudine e malinconia. Cominciai a sognare cose strane e lui che me ne spiegava il significato. La mattina mi sembrava ad avere appoggiato il mio viso sul suo petto la sera che c'eravamo confidati il nostro segreto più misterioso, che ci amavamo. Fu un abbaglio tra solitudine e malinconia. Commento. Per la legge niente è abbaglio perché tutto evolve. Eppure la condizione umana è immersa nell'illusione perché il periodo evolutivo chiamato uomo vive ancora la dualità. Io tu, mio tuo, qui là, ora dopo. Questa contraddizione si scioglie vivendo pienamente l'illusione, sapendo che è tale perché per il suo livello evolutivo solo l'illusione può condurre l'uomo alla realtà.